La coca viaggiava tra i ricambi d'auto. Nelle prossime ore gli interrogatori delle persone arrestate nell'operazione antidroga Boiano. In città la cocaina arrivava nascosta in mezzo a marmitte e ammortizzatori. Pino Ruta è un buon accordo per De Beneditti, se è un inciucio il responsabile del cantiere civico spiega le ragioni dell'intesa politica e ti programma con la candidata Maria Luisa Forte. Il candidato del centrodestra lo boccia solo un patto per le poltrone. Il generale dei carabinieri al giuramento di Campobasso, il comandante nazionale dell'arma ha partecipato alla cerimonia del 143 corso, quasi 500 allievi davanti a Teoluzzi e allo stato maggiore del corpo. I cittadini di Venafro felici per la manna, il fenomeno ha reso ancora più emozionanti i festeggiamenti dei patroni Nicandro, Marciano e Daria. Oggi in città il rito solenne del pontificale. Campobasso stellare e campione d'Italia. I rosso-blu travolgono il Trapani a Grosseto per 5 a 1 e conquistano lo scudetto della Serie D. Per la prima volta nella storia la squadra conquista un titolo nazionale. Edizione delle ore 14 del nostro telegiornale. Buon pomeriggio e bentrovati. Un cordiale saluto a voi tutti dalla redazione di Telemolì. Se lo avete sentito dai titoli abbiamo la cronaca in apertura, la cronaca giudiziaria perché emergono nuovi risvolti nell'operazione antidroga che ha portato alla luce un traffico di cocaina tra Secondigliano e Boiano. Nelle prossime ore anche gli interrogatori delle persone finite in carcere. Ma ascoltiamo tutti i dettagli in apertura nel servizio di Giovanni Di Tota. La cocaina arrivava in un furgoncino insieme ai pezzi di ricambio per auto. Un etto di droga alla volta nascosta tra marmitte e ammortizzatori facendo la spola tra Secondigliano e Boiano dove la sostanza era destinata per il mercato locale. Quel viavai del furgone ha dato nell'occhio e messo gli investigatori sulla pista giusta. Questo invece uno dei sistemi con cui nelle cosiddette case celesti di Secondigliano, una delle piazze dello spaccio più importanti del centro-sud, la cocaina veniva nascosta. Una volta nascosta sul furgone di ricambi il boss affiliato alla Camorra che organizzava la spedizione si metteva in contatto con il referente a Boiano, anche egli napoletano e con un faldone di precedenti penali sulle spalle. Nella città matesina dove il cinquantenne aveva stabilito il suo quartier generale c'era la manovalanza che vendeva la droga al dettaglio. Davanti alla porta di casa un gatto bianco gironzolava per la stradina e per questo l'operazione condotta dai carabinieri è stata ribattezzata White Cat. Ma ad assistere al mercato della droga non c'era solo il gattino bianco ma anche le telecamere nascoste dei carabinieri che in poco meno di un anno hanno filmato 3.000 cessioni per un giro d'affari di diverse centinaia di migliaia di euro. 5 kg di coca hanno attraversato il confine tra Campania e Molise e sono stati venduti non solo ai clienti abituali dell'area matesina ma anche a giovani e a professionisti della zona di Sernia. È la prova che la droga che arriva dalla zona di Boiano e finisce fino all'Isernino, ha spiegato il comandante Luigi Delegrazie, arriva dalle piazze di spaccio del Napoletano, del Parco Verde di Caivano e da Secondigliano. Nelle prossime ore sono previsti gli interrogatori delle persone arrestate, ancora latitante invece il nigeriano che aveva il compito di spacciare al dettaglio sfuggito all'arresto. E adesso la pagina politica con in primo piano il ballottaggio a Campobasso. Il giorno dopo l'accordo Pino Ruta, leader della coalizione civica, parla dei punti programmatici dell'accordo sottoscritto con la coalizione progressista di Maria Luisa Forte. Un buon accordo, dice, Ruta ha anche formalizzato la richiesta di tre assessori. Dall'altra parte Aldo De Benedittis, candidato sindaco del centrodestra, bolla l'accordo come un inciucio finalizzato alla spartizione delle poltrone. Ascoltiamo. Il giorno dopo la stipula dell'accordo programmatico tra il cantiere civico e il fronte progressista, Pino Ruta, leader della coalizione civica, spiega termini, patti e condizioni della proposta comune. Sono otto i punti che Maria Luisa Forte, candidata sindaca di Campobasso per la coalizione progressista, ha deciso di fare propri. La revisione degli atti sulla delocalizzazione e dismissione delle scuole. Seguono efficientamento della raccolta dei rifiuti, adozione del nuovo regolamento edilizio, rigenerazione ex hotel Roxy e area Romagnoli, delocalizzazione del distretto militare. A questi punti se ne aggiungono altri tre rispetto ai quali il cantiere civico chiede altrettanti assessori, ruoli per i quali sono stati indicati anche i possibili titolari, tutti estranei al gruppo di consiglieri eletti. Si tratta di Pietro Colucci per contrade, lavori pubblici, fondi comunitari ed edilizia scolastica. A Giovannino Cornacchione invece andrebbe la delega al Centro Storico, Cultura, Arti e Mestieri. A Vincenzo De Yasio, Sanità, Politiche della Diversabilità, Pari Opportunità e Contrasto alle Diseguaglianze. Sin qui l'alleanza tra progressisti e civici sul fronte del centrodestra, il candidato sindaco Aldo De Benedittis, con una doppia nota, ha bollato l'accordo del fronte avverso come un inciucio destinato alla spartizione delle poltrone. Si sono inventati la formula dell'accordo politico-programmatico, ha detto De Benedittis, proprio per coprire ciò che accade nella sostanza. Un inciucio bello e buono tra due realtà distanti e unite solo dalla voglia di spartirsi il potere. Noi l'apparentamento lo abbiamo fatto con i cittadini, ha proseguito il candidato del centrodestra. Il Circo della Sinistra offre uno spettacolo tragicomico che provoca imbarazzo e tristezza. Campobasso ha un'opportunità storica a porre fine alla triste commedia della sinistra. Ha concluso De Benedittis, che prosegue in questi giorni, il suo ciclo di incontri tra quartieri e contrade. Domani anche in Molise, al via agli esami di maturità, sono 2.500 i candidati che si apprestano a sostenere le prove, poco più di 1.800 nella provincia di Campobasso e meno di 700 nella provincia di Sernia. La maggior parte dei candidati interni frequenta il liceo, seguito dagli istituti tecnici e professionali. Nella provincia di Campobasso saranno presenti 56 commissioni e 117 classi d'esame, mentre nella provincia di Sernia ci saranno 19 commissioni e 39 classi d'esame. Gli esami inizieranno mercoledì 19 giugno alle ore 8.30 con la prima prova scritta di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio. La seconda prova, prevista per il 20 giugno, verterà su discipline caratterizzanti i vari percorsi scolastici. Sul tema della sicurezza sul lavoro, Moliseacque ha approvato un documento di valutazione dei rischi, preparato un opuscolo con le norme fondamentali e programmato un piano di formazione più serrato. Sentiamo Tonino Danese. A Moliseacque è nato un comitato per la prevenzione degli infortuni dei lavoratori. A Capovia il presidente dell'azienda speciale Stefano Sabatini, con esperti al suo fianco, è stato approvato un documento di valutazione dei rischi per i dipendenti, che è un adempimento previsto dalla legge ma che ha spiegato Sabatini a connotazioni particolari. Gestendo 44 serbatoi, centrali di sollevamento e una rete di condotte che addirittura supera i 2200 chilometri di estensione e tenete presente che non abbiamo perdite perché proprio i lavoratori tecnici Moliseacque sono l'eccellenza di cui vi parlavo prima, abbiamo cercato di dividere per ambiti il documento e quindi abbiamo cercato di individuare quali sono i rischi maggiori a cui i nostri lavoratori possono essere esposti. Quindi rischi da folgorazione, da annegamento, anche dalla semplice manovra di impianti idroelettrici. Quindi diciamo che gli ambiti di maggior rischio sono questi. Noi vigileremo affinché questo documento abbia una pratica attuazione. Redatto anche un opuscolo che verrà consegnato ai lavoratori di Moliseacque con norme fondamentali per prevenire i rischi. Nell'ottica di una tutela per i nostri lavoratori che svolgono veramente un lavoro eccezionale, sono un'eccellenza nel panorama molisano. Inoltre, ha aggiunto il presidente di Moliseacque Stefano Sabatini, abbiamo predisposto anche un piano di formazione del personale sui rischi sul luogo di lavoro anche più serrato rispetto a quanto già contemplato dalla legge. Perché anche qui abbiamo cercato di andare oltre i meri obblighi di legge. Quindi proprio nell'ottica della tutela dei lavoratori abbiamo cercato di redigere un piano di formazione per la sicurezza del lavoro che abbia delle cadenze molto più serrate rispetto alle cadenze di legge che sono molto più dilatate nel tempo. Quindi tra qualche settimana cominceremo con un piano di formazione per la sicurezza del lavoro che sarà tenuto dall'architetto Claudio Lallo che spiegherà a tutti i lavoratori quali sono le direttive da seguire per evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro. E continuiamo con la carrellata dei sindaci. Conosciamo adesso quelli rieletti a Fossalto e Spinete e la nuova prima cittadina di Lucito. Se ne parla Marta Martino. Portare avanti molti dei progetti già iniziati grazie anche ai finanziamenti già stanziati è l'obiettivo del riconfermato sindaco di Fossalto Saverio Di Nonno che ha ricevuto il 93,63% delle preferenze. Sono tante le cose che abbiamo iniziato, abbiamo ottenuto tanti risultati veramente in questi cinque anni, abbiamo ottenuto più di 5 milioni di euro di finanziamenti e tra progetti iniziati e nuove cose da realizzare ci sono varie novità, cose che abbiamo iniziato tipo la comunità energetica, dei dissesti, abbiamo in mente di rifare gli impianti sportivi, abbiamo insomma vari progetti da portare avanti che sicuramente in questi cinque anni concluderemo. Al primo mandato invece è la sindaca di Lucito, Tiziana Franceschini, a cui piace definirsi una donna che ama fare e parlare poco. L'elezione è stato il primo passo, ora arriva alla fase più impegnativa, i prossimi cinque anni dice. Lucito come molti dei nostri paesi purtroppo ha il problema dello spopolamento, quindi noi vorremmo puntare proprio ad incentivare i giovani a restare, promuovendo cooperative sociali, magari recuperando edifici dismessi e aiutare i ragazzi ad investire in questo posto. Poi ovviamente il turismo lento, credo che nel nostro territorio è fondamentale, abbiamo paesaggi eccezionali che meritano di essere conosciuti, per cui puntiamo alla riqualificazione di percorsi e sentieri extraurbani con un interesse storico molto importante, questo è qualcosa di quello che vorremmo fare. Riconferma a spinete per il sindaco Michele Di Iorio che non nasconde la sua emozione. Abbiamo un progetto di politica locale che rompe con gli schemi del passato. L'obiettivo numero uno è quello di portare al termine il piano di riequilibrio finanziario al quale siamo legati dal 2018. Stiamo pedalando forte da un piano di rateizzazione ben più lungo rispetto alle aspettative. In questi ultimi anni sono stati fatti dei sacrifici notevoli e dobbiamo mettercela tutta assolutamente per chiuderlo all'interno di questo mandato. Sarà un risultato importante che ci permetterà di rimodulare il gettito fiscale sui tributi, quindi ne beneficerà tutta la comunità, tutti i cittadini. Sono state assegnate dal presidente della provincia di Sernia, Daniele Sai, alle deleghe, ai consiglieri, quattro per il centrosinistra, due per il centrodestra e una per Claudio Falcione. Il servizio è di Davide Gambardella. La distribuzione alla fine riflette gli accordi in essere tra maggioranza e opposizione con un riconoscimento a chi ha appoggiato sin dall'inizio l'idea di una lista unica. È così che il presidente della provincia, Daniele Sai, a scioglie le riserve e assegna le deleghe ai consiglieri di Via Berta, quattro per il centrosinistra, due alla minoranza e una neutra rappresentata da Claudio Falcione. Nella ripartizione spicca tra gli altri Linda Dall'Olio, consigliera di Forza Italia, a cui viene assegnata l'edilizia scolastica di Sernia Venafro, oltre alla Polizia Provinciale, sempre dello stesso partito di Linda Dall'Olio. Manolo Sacco prende gli incarichi per la viabilità e per il personale. Altro consigliere eletto nelle fila dell'opposizione, Claudio Falcione, a cui vengono assegnate le deleghe per la biblioteca provinciale, l'emergenza ambientale di Venafro e la gestione della questione Fresilia. C'è da precisare che il consigliere Falcione, pur trovandosi tra i banchi dell'opposizione, non è espressione del centrodestra, avendo lui qualche mese fa scelto di appoggiare il gruppo misto in consiglio comunale a Sernia. Per il centrosinistra, i nomi a conclusione delle ripartizioni degli incarichi sono quelli di Sara Ferri, a cui il presidente Sai ha dato sport, turismo e cultura, Candido Paglione, il quale gestirà il piano neve, il patrimonio e l'edilizia scolastica dell'Alto Molise, e Giuseppe Centracchio, il quale sarà delegato ai rapporti con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Franco Marco Vecchio, uomo vicino al presidente Saia, si occuperà dell'efficientamento energetico del palazzo della provincia e insieme a Falcione del completamento della Fresilia. Il presidente di Via Berta, con questa decisione, riporta in consiglio un pensiero già espresso nel periodo delle elezioni, una maggioranza a trazione centrosinistra, che tiene conto di un'architettura politica studiata nei mesi e che riconosce gli accordi intercorsi con Forza Italia per la creazione della lista unica. Anche le mamme per la salute di Venafro prenderanno parte domani alle 11.30 alla conferenza stampa alla Camera dei Deputati, organizzata dalla rete Mamme da Nord a Sud. L'obiettivo dell'incontro è promuovere lo sviluppo sostenibile per proteggere l'ecosistema e le generazioni future, formulando richieste dettagliate da presentare ai parlamentari. Hanno giurato i quasi 500 allievi e allieve del 143esimo corso della Scuola Carabinieri di Campobasso, presente alla cerimonia anche il Comandante Generale dell'Arma, Teo Luzzi. Siete chiamati a onorare la Patria e la Repubblica in un periodo difficile e dovrete essere bravi ad adeguarvi ad una società che cambia, ha detto. Sentiamo Tonino Danese. Come fosse una sola potente voce si è levato nell'aria. Il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Patria di 460 allieve e allievi del 143esimo corso della Scuola Carabinieri della Caserma Frate a Campobasso, sotto il sole, nella piazza d'Armi, hanno giurato ora. Sono carabinieri a tutti gli effetti emozionati e orgogliosi davanti al Comandante Generale Teo Luzzi, arrivato in elicottero e accompagnato in rassegna dal Comandante della Scuola, il colonnello Bruno Capece e dal Generale Marco Lorenzoni. Dobbiamo sempre ricordarci che dietro ogni italiano c'è una patria. Purtroppo a volte presi dalla frenesia dei tempi moderni ci si dimentica la nostra storia e i valori di questo grande paese. Hanno chiuso il loro corso, le allieve e gli allievi con unità di intenti e coesione, studiando e preparandosi per servire la gente, ha sottolineato il colonnello Capece, ma anche attraverso azioni di solidarietà. La bandiera è il nostro simbolo, ha spiegato il Generale Luzzi. Noi siamo una squadra di sicurezza per l'Italia in un momento storico difficile e in continuo cambiamento. I cittadini hanno un bisogno primario che si chiama sicurezza. La sicurezza è indispensabile per ogni attività umana, dall'esercizio dei diritti politici, diritti civili, per la gestione economica e anche ovviamente per le libertà della civile convivenza. È chiaro che le forze di polizia sono un baluardo nei confronti della criminalità e soprattutto sono un riferimento per la sicurezza. Il Carabinieri in modo particolare con i loro 210 anni di storia ha fatto ovviamente di attività tecniche, operative e di polizia giudiziaria, ma fatte anche di vicinanza alla gente. I Carabinieri sono tra la gente e vivono per la gente. Per noi questo giuramento è un atto che poi rimarrà per tutta la vita e significa il sacrificio che poi i nostri Carabinieri hanno dato ad intraprendere per tutta la vita. Quindi è un atto formale importante, ma allo stesso giorno è un grande giorno di festa. I reparti schierati, famiglie e amici, moglie e fidanzate dei nuovi Carabinieri intorno. Sul palco le autorità civili, militari, forze dell'ordine di polizia, istituzionali, religiose, parlamentari, rappresentanti della scuola e della magistratura. Apposti 10 alla maria ad altrettanti allievi e ad altrettanti allieve, dal generale Luzzi e da altre autorità in modo simbolico e formale. Il sogno è di fare una grande carriera, progredire sempre al meglio e raggiungere obiettivi sempre migliori. Qualsiasi sia la destinazione non importa, l'importante è fare il proprio mestiere con onore, lealtà e soprattutto tanto tanto cuore, questo ci vuole in questo mestiere. Nella piazza della caserma Frate è scoperto un grosso murales realizzato dai ragazzi del liceo artistico Manzù di Campobasso, capitanati da Joshua Camino, raffigurato il castello Monforte, militare in servizio e soprattutto il generale Nando Dallacchiesa, simbolo della lotta alla malavita. Quando guardi questa figura cosa pensi? Alla vittoria, perché è un personaggio grande e dobbiamo seguire tutto il suo esempio. E i neocarabinieri hanno voluto anche farsi fotografare davanti alla raffigurazione di Dallacchiesa. Lui sarà la nostra fonte di ispirazione visto che, come ci ha detto lui, dobbiamo sentirci e ci sentiamo gli amari cuciti sulla pelle. A Campobasso il convegno Etica e Legalità per parlare di ludopatia. Diversi relatori che sono intervenuti all'incontro anche per affrontare i risvolti giuridici del problema e le ricadute sociali. Sentiamo Dalila Catenaro. Gioco d'azzardo e ludopatia, i risvolti giuridici così come le ricadute sociali. È stato dedicato un convegno a Termoli al fenomeno dilagante del gioco d'azzardo online, che miete sempre più vittime tra i giovanissimi. Una fascia di popolazione che ingloba anche i minori, che si ritrovano invischiati nel grave problema. Sono stati presentati dei dati dopo accurati studi sul fenomeno e se ne è parlato proprio durante il convegno. L'incontro è stato organizzato dai Lions Club Termoliti Fernus, guidati dall'avvocato nonché presidente Antonio Capobianco, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti del Molise, l'Ordine degli Avvocati di Larino, il Kodakons Molise e l'Associazione Onlus Torna il Sorriso, proprio per affrontare tutti insieme la piaga del gioco d'azzardo online. Intervengo in realtà con piacere sul tema della patologia del gioco d'azzardo e abbiamo già all'interno di questo stesso auditorium trattato un convegno formativo educativo sulla ludopatia e organizzato dal Kodakons a livello nazionale dal titolo All In, in gioco per la legalità. Ritengo che l'informazione sia fondamentale perché soltanto conoscendo si può affrontare la tematica anche alla luce dei risvolti normativi di recente che ci sono stati perché rispetto al precedente convegno c'è qualche novità. La novità è costituita dal decreto legislativo 41 del 2024 che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale e si presenta in maniera forte e dominante come forza, come norma primaria, quindi legge primaria che regola la materia e va ad introdurre delle novità fondamentali a tutela, soprattutto delle fasci deboli. L'autopatia ormai è un problema che affligge fasce d'età ed è questo quello che preoccupa di più, che vanno a toccare anche appunto età molto piccole di ragazzi. Nella mia esperienza clinica mi è capitato spesso di avere adolescenti, le parlo di 16 anni, 17 anni, che erano già entrati in contatto in maniera abbastanza profonda con quello che è il problema del gioco d'azzardo. Quindi è una problematica che affligge parecchie famiglie. Il problema è che se ne parla fin troppo poco e sempre. Come si coniuga il diritto penale con il gioco d'azzardo? Il gioco d'azzardo è un aspetto fondamentale in penale, lo è stato fin dal codice del 1930 per la sua funzione criminogenetica e quindi favorisce il crimine. Attualmente sta assumendo sempre più forme patologiche, ragione per cui si discute se possa incidere o meno sulla imputabilità e quindi sulla capacità di contestare il reato a chi se ne rende responsabile. Ma anche i sistemi di prevenzione e repressione per affrontare il problema. Cercherò di fare il punto sui sistemi di prevenzione e di repressione e su quello che c'è bisogno soprattutto nel nostro Molise. Daremo alcuni dati che abbiamo in tribunale sul numero delle inabilitazioni per far comprendere proprio che questo è un problema di particolare gravità che ha bisogno di essere affrontato al più presto. Nel suo intervento lei ha fatto una serie di ricerche circa i dati, sia a livello nazionale che a livello regionale. Non è facile reperire i dati perché con gli ufficiali dell'Agenzia del Demanio e dei Monopoli è stato un po' complicato, però sono riuscite a sapolare dei dati sia a livelli nazionali sia a livelli di Molise che di Isernia e Termoli e dai quali abbiamo l'entità della grandezza e dell'importanza dei decine e decine di milioni di euro che vengono giocati durante l'anno. E' tornata a Termoli ancora una volta la festa dei pensionati promossa da Anteas e Cisle in una piazza del Papa affollata, un modo per stare insieme accantonando solo per un momento le diverse vertenze che interessano i lavori, i lavoratori molisani. Ascoltiamo Andrea Nasillo. Una piazza del Papa a Termoli affollata tra gioia ed entusiasmo, l'Antes Molise e la Federazione dei Pensionati Cisle del Molise hanno riproposto anche quest'anno la festa degli iscritti. Diverse centinaia di persone, gli organizzatori hanno previsto oltre alla musica di intrattenimento e da ballo anche uno spettacolo teatrale e 13 personaggi in cerca d'amore con artisti nazionali e locali. Abbiamo iniziato un lavoro da quest'inverno per ripeterci appunto della stessa iniziativa fatta l'anno scorso, quest'anno appunto migliorandoci. E' un'iniziativa che sostanzialmente dobbiamo portare persone vicine al sindacato, vicine ai pensionati, alla FNP, alla Cisle, in piazza come tradizione di tanti anni fa. Solo per un attimo si accantonano le problematiche sindacali in un territorio, quello molisano, dove diverse sono le vertenze aperte e ai lavoratori va garantita sempre vicinanza e tutela. Abbiamo ancora qualche vertenza aperta come la Vibac che dè sta preoccupazione, ma abbiamo la Gigafactory, abbiamo Stellantis. C'è insomma un fermento che non ci dà tranquillità perché è chiaro che non abbiamo le soluzioni immediate e invece quelle sono necessarie per poter progettare il futuro anche di questo territorio. In piazza non poteva mancare lo spazio al cibo, anche dilettare i palati è importante, un vassoio che specialità gastronomiche locali e nazionali è stato servito a ogni tavolo per ogni partecipante. Il convegno su etica e legalità del precedente servizio si è svolto non a Campobasso come erroneamente detto, ma a Termoli, ce ne scusiamo. Ricorre in giugno come ogni anno la giornata mondiale del donatore che l'Avis nazionale promuove in tutto il territorio italiano in accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 2004, anno in cui fu istituita a Termoli il ventennale, è stato celebrato dalla sezione locale dell'Associazione con una conferenza stampa in sala consigliare. Ce ne parla Francesco Di Giacomo. Fu proclamata il 14 giugno del 2004 la giornata mondiale del donatore di sangue in onore di Carl Ernest Landsteiner, biologo e fisiologo austriaco naturalizzato statunitense, che viene ricordato nel giorno della sua nascita principalmente perché fu lo scopritore dei gruppi sanguigni e il coscopritore del fattore RH, con il semplice scopo di strutturare l'opinione pubblica sull'importanza che riveste la donazione di sangue e sul ruolo fondamentale che i donatori di sangue volontari, periodici, non retribuiti acquisiscono per coloro che necessitano di trasfusioni sicure. In questo ambito la medicina ha fatto grossi progressi per cui le donazioni di sangue sono sicure, sono sicure molto più di qualche decennio fa dove c'era il problema dell'epatite C, dell'epatite B, dell'HIV. Oggi questi problemi sono stati direi completamente risolti, quindi chi riceve il sangue, il paziente, sa di ricevere un prodotto sicuro al 100% ormai. Oggi si punta molto sulla donazione di plasma, la cosiddetta plasmaferesi, perché da questa componente del sangue, la parte liquida, il plasma, si ricavano i cosiddetti farmaci plasma derivati che sono farmaci salvavita come le immunoglobuline, l'albumina, il fattore ottavo antiemofilico. Poche ma buone sono le pratiche che un donatore regolare di sangue dovrebbe seguire. Con delle fasi preparatorie specifiche in vista del giorno in cui fisicamente dovesse recarsi presso il centro Avis di riferimento, che sono le stesse da seguire per effettuare un prelievo per le analisi. Il donatore deve condurre una vita dei corretti stili di vita, è uno slogan su cui puntiamo tutte le volte che andiamo nelle scuole a parlare ai ragazzi e alle ragazze di donazioni di sangue. I corretti stili di vita presuppongono il fatto che non si utilizzino sostanze stupefacenti, non si abusi di alcol, non si fumi, anche nei rapporti sessuali ci sia un'attenzione particolare. La questione che continua a tenere banco riguarda sempre il ruolo del medico di medicina trasfusionale e non è solo il controllo assiduo da compiere sull'integrità fisica generale dell'individuo, ma anche l'appello costante da lanciare soprattutto agli appartenenti ai gruppi sanguigni più richiesti, come i cosiddetti donatori universali, i quali dovrebbero aderire alla compagna di donazione promossa dall'associazione in maniera più massiccia. Ma a volte capita di scontrarsi con l'etica morale o religiosa dell'individuo che in alcuni casi può essere in contrasto con la pratica della trasfusione e quindi indirettamente anche della donazione. Nella pratica quotidiana queste difficoltà non le troviamo, non le troviamo. Il donatore che si presenta a donare, la donatrice che viene a donare, sono consapevoli di fare un gesto nobile innanzitutto e dall'elevato valore etico, sanno che donare è un qualcosa di utile per gli altri, quindi ostacoli particolari non ce ne sono. Sarà inaugurata venerdì 21 giugno al Palazzo da Mula al Museo della Civiltà Lagunare, la mostra del pittore campobassano Piero Perrino dal titolo Venezia Murano resterà aperta fino al 30 giugno. A Venafro la comparsa della Santa Manna durante i festeggiamenti dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria ha reso più emozionante l'evento. Questa mattina si è tenuto il solenne pontificale. Ascoltiamo Barbara Fino. La Santa Manna c'è e questa è la lieta novella che ha arricchito con gioia ed entusiasmo i festeggiamenti del popolo venafrano in onore dei Santi Martiri, Nicandro, Marciano e Daria. Il liquido prodigioso nel suo manifestarsi porta speranza e vicinanza ai Santi. E questo è un segno di vicinanza, questo sta proprio a significare la vicinanza dei martiri alla città di Venafro, questo liquido prodigioso che viene chiesto per gli ammalati, per le persone che vivono situazioni di difficoltà. Le statue dei Santi sono state portate in processione ieri sera nel viaggio di andata dalla Chiesa dell'Annunziata alla Basilica con grande partecipazione dei fedeli. Oggi il solenne pontificale celebrato da Monsignor Camillo Cibotti. Ci saranno novità prestissimo per il santuario e queste cose non faranno altro che ravvivare la devozione ai Santi Martiri e nello stesso tempo renderanno questo santuario ancora centro di una spiritualità che non è solo Venafrana ma di tutta la Diocesi perché i Santi Martiri sono patroni di tutta la Diocesi. La consegna delle chiavi da parte del sindaco della città ai martiri durante il rito religioso ha suggellato la grande fede del popolo venafrano verso i Santi Protettori. Quest'anno con un pensiero particolare rivolto ai giovani con l'ivito di credere nelle proprie potenzialità e di investirle nel proprio territorio. Vorrei che in qualche modo i giovani fossero particolarmente attenti a quello che è l'esempio dei Santi Martiri. Hanno creduto tanto da andare fino in fondo per portare avanti ciò in cui credevano. Ecco vorrei che i giovani partendo da questo esempio credessero sempre di più nelle potenzialità di questo territorio e della nostra città. Ci scommettessero. Ci sono cose che mancano ma ne abbiamo anche tantissime su cui poter puntare per poter non piangerci addosso ma rilanciare ancora di più questo nostro territorio. Bene termina qui il nostro telegiornale. Adesso le previsioni del tempo poi la linea ai colleghi della redazione sportiva. Noi ci vediamo intorno alle 15 per gli aggiornamenti. A voi tutti buon pomeriggio. Noi ci vediamo intorno alle 15 per gli aggiornamenti.